Ciao, bentornati da Sebastiano Dato. Oggi in questo video ti voglio parlare di fiducia in se stessi. Come averne di più? Come svilupparla e costruirla? E lo faccio perché non solo mi viene richiesto molto spesso come argomento, ma anche perché è così importante e lavoro così tante volte con le persone nel mio percorso sulla fiducia, come avere più autostima, come essere più sicuri, che ne ho fatto un pilastro fondamentale su cui si regge il percorso. Più avanti te ne parlerò. Io credo che avere fiducia sia il propulsore per effettuare un cambiamento, per realizzare una svolta, un cambiamento nella propria vita. E molto spesso ci si blocca proprio su questo, perché la testa a un certo punto ci dice che non siamo abbastanza pronti, ci dice che dobbiamo prepararci ancora di più, oppure che non ce la faremo. Ci porta a paragonarci con altre persone, soprattutto se queste persone sono per noi un modello di riferimento. Magari vogliamo costruire una carriera, osserviamo quelle persone che già quella carriera ce l'hanno fatta e ci sembra poi un obiettivo così distante. Ho lavorato con persone che vogliono lavorare nell'ambito della creatività, quindi magari propongono il loro progetto online e paragonandosi con coloro che hanno già una certa visibilità, che hanno già un certo lavoro avviato, questo molto spesso li scoraggia. Quando è che succede allora che ci si scoraggi proprio per una mancanza di fiducia? Quello che riscontro è paradossalmente che sono proprio le persone che sono più attente, più attente ai dettagli, più attente alla preparazione, che vogliono fare bene quello che andranno a fare o che già fanno, che si sentono insicure in questo. E come conseguenza c'è un proiettarsi all'esterno, ti spiego subito cosa voglio dire, c'è un prodigarsi, cioè fare sempre di più. Non mi sento abbastanza pronto, nonostante magari abbia un percorso alle spalle, allora continuo a prepararmi, a studiare, a frequentare corsi, eccetera, 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 però di fatto non mi avvio mai, magari nell'ambito lavorativo. Ma questo vale anche nell'ambito relazionale, perché magari ho lavorato molto su di me, magari ho lavorato molto sulla mia comunicazione, però non riesco ad essere autentico, assertivo con le altre persone, non riesco a mettere dei confini. Quindi è un argomento davvero che va a toccare diversi ambiti. Ecco perché lo ritengo un blocco abbastanza particolare e fondamentale. Ti dicevo poco fa, proiettare all'esterno, faccio di più, perché così riesco a cambiare più cose all'esterno. È proprio questo però che ci fa sentire poi in crisi. Perché più cose faccio, più ne voglio fare ancora, perché mi devo mettere in riga, più però mi faccio prendere dall'affanno, dall'ansia, dall'agitazione e come conseguenza c'è il fatto che mi stresso, ho meno tempo libero, meno tempo per me, per prendermi cura di me e quindi sto vivendo continuamente proiettato sul futuro, perdendomi tutti i pezzi del mio presente. Perdendomi quello che già c'è, per andare alla ricerca di qualcosa, soprattutto al di fuori, che sto inseguendo, che poi ottengo, che però non basta. Insomma, crea molta agitazione questo. Tra l'altro ho lavorato con una ragazza, Gaia, di cui ho pubblicato da poco, è una testimonianza del percorso che abbiamo fatto insieme, quindi se vuoi puoi andarla a recuperare, che racconta proprio questo. Cioè lei racconta di come nel suo lavoro, dove è richiesta una certa performance, un certo conseguimento degli obiettivi, perché lavora nelle vendite, quindi puoi immaginare andare a prendere dei clienti nuovi, e portare dei risultati periodicamente all'azienda o a fine mese, l'ansia di magari dire ho perso il cliente, oppure l'ansia di dire non ho preso altri clienti, e che molto spesso non dipende dalla performance in sé, ma dipende anche dal prodotto che viene venduto dall'azienda. Insomma, una serie di cose che creano pressione. E infatti questa ragazza quello che stava affrontando era il fatto di tenersi sempre in agitazione, andare sempre a mille, non fermarsi mai, perché doveva sempre recuperare. Dall'altro c'era anche il confronto magari con qualche collega, questo collega nonostante siamo entrati insieme in azienda, abbiamo iniziato a lavorare insieme, però vedo che sta conseguendo dei risultati, caspita io invece mi sento inferiore. Il paragonarsi che fa sentire ancora meno pronti e fa crollare la fiducia che nutriamo in noi stessi. Allora, cosa abbiamo fatto? Visto che c'era questa agitazione, visto che questa agitazione andava anche a compromettere come ci si sentiva corporeamente, a livello corporeo con se stessi, ci si svegliava la notte di sovrassalto, Dio, cosa devo fare domani? Abbiamo detto, ascolta, fermiamoci un attimo, rallentiamo, ed entriamo in contatto con noi stessi. Nel momento in cui ti fermi, inizi a respirare, curi il respiro, quindi magari è fermo qui perché c'è molto affanno, come può essere respirare con tutto il corpo, quindi anche con l'addome. Che cos'è che succede? E quello che è successo la prima volta che abbiamo fatto questo esercizio è stato molto bello, perché è successo proprio questo. un accasciarsi e che poi si è trasformato in un pianto quasi liberatorio, perché in quel momento è stato riassaporato uno star bene, un benessere, che però nella corsa, e la società di oggi è basata proprio su questa corsa, stava facendo dimenticare la qualsiasi. Le azioni che vengono compiute in questo modo, ed è quello che devi sapere, sono delle azioni inconsapevoli. E le azioni inconsapevoli sono quelle azioni che portano da nessuna parte, perché andiamo un po' a tentativi. Oggi provo ad andare a destra, poi provo ad andare a sinistra, poi faccio qualche passo avanti, poi qualche passo indietro. Manca però la base, mancano le radici, cioè laddove vado a slanciarmi, non posso farlo se prima non costruisco un terreno sicuro per poter poggiare i piedi, piegare le gambe e poi darmi una certa spinta. E questo terreno sicuro è costituito proprio dal contatto con se stessi. Quando, allora, stai correndo, quando senti che c'è questa agitazione, soprattutto quando senti che l'insicurezza sta prendendo il sopravvento, fermati. Fermati innanzitutto per disconnetterti da tutto quello che stai facendo all'esterno e riconnetterti all'interno. Prenditi, te lo do come esercizio, prenditi 5 minuti al giorno per poterti fermare, riposare un attimo, rallentare e respirare. E osserva. Senza giudizio, senza, oddio, adesso non ce la farò, eccetera. Osserva. Osserva cosa succede dentro di te. Osserva cosa succede anche a livello dei tuoi pensieri. Se ci sono dei pensieri magari che cercano di sabotare questo momento, mettili un attimo a stand-by, ringraziali, lasciali andare e ritorna a respirare. Poi, allo scadere dei 5 minuti, ritorna qui. Partire da quello che stai sentendo, è il primo passo per poi renderti conto che non hai bisogno di andare alla ricerca, non hai bisogno di cercare di mettere in atto dei cambiamenti profondi perché adesso sta andando tutto a rotoli se poi questi cambiamenti sono privi di direzione. Rappresentano una strada diversa che però possibilmente poi ti porta a doverti confrontare nuovamente con te stesso o con te stessa. Allora la strada, tagliamo la corta, andiamo direttamente alla scorciatoia, confrontati. confrontati non nel senso che debba esserci una lotta, ma semplicemente riconnetiti. Perché questo correre è quello che in questo momento ti sta non solo facendo sentire a disagio, ma sta minando anche la sicurezza che hai in te stessa o in te stesso, perché più vuoi alimentare il fuoco, più il tuo corpo, non vedi come si ribella, non riesce a sostenere tutto questo peso che magari stai aggiungendo. E allora, prima di imparare a dire di no, prima di imparare a mettere dei confini, prima di effettuare un qualsiasi cambio, hai bisogno di costruire quelle basi solide che hanno a che fare con la tua autostima, la sicurezza che nutri in te, con la fiducia che nutri in te e che essenzialmente significa iniziare a prenderti cura di te. E non puoi farlo se prima non ti riconnetti. Se prima non impari a conoscerti, a capire cosa sta succedendo ora in questo momento e in modo all'inizio magari un po' meccanico, perché sono dei meccanismi nuovi, dei processi nuovi, ma puoi sempre più automaticamente lasciare che tutto rinizi a rifluire. Una volta che lo fai all'interno, puoi questo da dentro a fuori poterlo ricostruire, ricostituire. Quindi questo per quanto riguarda la fiducia in se stessi, poi si può passare al conseguire piccoli obiettivi che quindi ti fanno assaporare dei successi e magari questo ti rafforza ancora di più, ma la base è proprio questo, riconnetterti, fermarti, respirare, aumentare la fiducia in te stesso tramite la conoscenza di te e di quello che sta succedendo. Posso capire anche che è difficile a volte, quindi quello che devi sapere in questo video è che ho riaperto, dopo una piccola pausa, ho riaperto le iscrizioni per il mio percorso individuale, dieci settimane per affermarti, dove nell'arco di tempo di dieci settimane ti accompagno proprio a sbloccarti, a costruire questa fiducia in te per poterti realizzare, per poter costruire una vita che sia in equilibrio, dove mettere al tempo, è al centro, scusami, il tempo per te, per le persone, per le cose che per te valgono, sono di valore, che per te contano. E come ti dicevo, si basa su tre pilastri. Il primo, l'abbiamo visto oggi in questo video, quello della fiducia in te stessa, in te stesso, perché è quello che permette poi anche di andare a sgonfiare quelli che sono i pensieri sabotanti, quelli che ti dicono che non sia abbastanza, che ti fanno dar conto e peso al giudizio delle altre persone, oppure alla vocina interna che ti vuole giudicare. E andremo proprio a lavorare su questo, non solo tramite la riconnessione, ma anche su quello che è il pensiero. Demolire quelle che sono le convinzioni che in questo momento ti stanno limitando, costruire invece delle convinzioni, dei pensieri da mettere in testa, che sono più efficaci, con cui identificarti. Secondo punto, invece, è quello che riguarda il contatto profondo, e che permette come risultato di scoprire qual è la tua strada. La tua strada non soltanto professionale, ma anche la tua strada intesa come chi vuoi essere, quale persona vuoi realizzare, che in questo momento magari hai paura o hai timore di tirar fuori. E il terzo punto è quello invece dell'equilibrio. Cioè, nel momento in cui ci realizziamo, non possiamo ritenerci tali se prima non costruiamo un equilibrio nella nostra vita, perché altrimenti ci sbilanceremo, se è in modo consapevole e non scelto, ci sbilanceremo su un ambito, magari tutto sul lavoro, però poi arrivati a fine giornata dico, ok, ma queste gioie del lavoro con chi le vado a condividere? Oppure, al contrario, abbiamo delle relazioni in cui sentiamo di dare tanto, però stiamo curando poco nella nostra vita. Allora, andare a riequilibrare attraverso i primi due step e poi il terzo step finale, andare a riequilibrare queste sensazioni, queste situazioni, ci permette poi di sentirci affermati, realizzati e soprattutto di vivere una vita piena. Dov'è che posso agire per poter compensare quello in cui magari ancora non mi sto prodigando ad aggiustare, ecco, a riequilibrare appunto per avere una vita in armonia. Se questo percorso può e pensi che possa aiutarti e vuoi intraprenderlo, sei molto motivato a questa svolta, c'è nei link in descrizione, nei commenti, ti lascio proprio l'indirizzo per candidarti, è un form da compilare per poter capire se sei adatto a intraprendere questo percorso, se possiamo lavorare insieme e accedere così alla prima chiamata di svolta gratuita, che è una chiamata di 30 minuti in cui lo comprendiamo insieme e poi in quel caso ti spiego come funziona più nel dettaglio e le informazioni di cui hai bisogno per poter partire e avviarti, raggiungere quella che è la tua realizzazione. Fammi sapere nei commenti se ti rispecchi nell'argomento che abbiamo trattato e soprattutto se questa corsa ti rappresenta e come può essere per te fare questo esercizio, 5 minuti al giorno da prendere per poterti fermare, rallentare, respirare e riconnetterti. Un abbraccio alla prossima!